eccolo qua eccolo qua ci devono occhiare anche questa volta vediamo siamo salendo ok stiamo salendo su c'è una piccola sala giochi vintage dove ci sono dei grandi classici così quasi mi faccio una partita della street fighter voglio provo vedere come cioè oddio lo so benissimo però com'è giocare qui e 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 un po' un po' un po' un po' un po' un po' un paradiso vintage un altro indigno ok sì 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 una partita me la faccio una partita me la faccio di più una partita me la faccio una partita me la faccio una partita una partita me la faccio 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 118 giochi. Ok. 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 Ok.